Abbiamo tantissimi consiglieri regionali che hanno deciso di condividere questo progetto, è un primo inizio, sul territorio vi è un grandissimo entusiasmo, abbiamo notizie conferme di molte adesioni a questo progetto che guarda al futuro, grande entusiasmo, oggi ascolteremo alcuni di loro perché vogliamo far parlare loro, vogliamo cambiare metodologia della comunicazione e della politica, è giusto che sia la base a parlare al di là di quello che dicono i vertici. La base, il messaggio arriva alla base, cosa c'è di nuovo? Volontà di partecipazione alle scelte, volontà di partecipazione al confronto delle idee, alle proposte, credo che il territorio si sia un po' risvegliato con queste risveglioni.